Musica Signore e signori ben ritrovati nella serie di sopravvivenza Nello scorso episodio ci siamo lasciati con il mulino Molto bello molto bello molto carino mi piace mi piace molto Ho fatto delle piccole modifiche perché un amico mi ha dato vari consigli Tra questi ne ho subito messo in atto uno Mi aveva detto praticamente che questa struttura qui come vedete adesso è in pietra Essendo in legno giustamente è poco resistente Vabbè siamo in minecraft resterebbe comunque lì non cadrebbe Però noi ci ispiriamo alla realtà quindi dobbiamo fare le cose fatte bene Quindi niente ho messo praticamente questa struttura in pietra Tra l'altro anche muschiata quindi ci sta bene Fa capire insomma che è stata molto tempo come se si fosse consumato E anche muschiato appunto perché è stata molto molto tempo in acqua Comunque come vedete ho fatto delle piccole modifiche tra un episodio e l'altro Ho ampliato un pochino questo posto quindi vedete sicuramente questa parte più ampia appunto Ci vuole un po' di tempo per far crescere tutto il grano anche perché comunque non è irrigato Infatti se vedete qui la parte irrigata diciamo è asciutta Non è più scura e bagnata come si fa di solito quando è irrigato appunto Quindi niente ci metterà un po' di tempo e non dovrebbe insomma togliersi il grano no? Ci metterà solamente più tempo ma tanto comunque noi non la usiamo come farm di grano Perché comunque c'è questa qui che sto usando sta producendo veramente tantissimo Guardate quanta wheat abbiamo una marea proprio quindi produce veramente un sacco E non c'è bisogno di avere una farm di grano Tra l'altro questa qui è estetica quindi alla fine ci deve stare giustamente vicino al granaio Comunque ho letto un po' di commenti e ci sono dei consigli che mi sono piaciuti Devo essere sincero mi sono piaciuti mi fa piacere comunque parlare insieme a voi Io quando posso cerco di rispondere ai vostri commenti Uno di voi mi ha detto di mettere un granaio precisamente dodoindro Sì un granaio lo ci sta effettivamente ci sta non ci avevo proprio pensato Sai probabilmente lo mettiamo qui o non lo so qui qui non troppo vicino all'acqua Perché non ci starebbe tanto bene Dormiamo un secondo perché sennò qua ci sporano i mostriciattoli E dopo saltano sopra il grano e mi dà molto molto fastidio E poi FlySam003 mi consigliava di fare un episodio in Minira Così per parlare anche dei progetti Ecco se ve ne siete accorti in tutti gli episodi non mi sono mai concentrato in Minira Non mi piace tanto spendere un episodio lì dentro Però se proprio vi piace si potrebbe portare Magari confermatelo poi nei commenti XRHD chiedeva di fare proprio dei video su come abbellire un villaggio Una sorta di tutorial da parte mia di come abbellire un villaggio E come fare questo stile di case e anche quell'altro stile di case dell'altro villaggio Si potrebbe fare qualche video così del genere Magari se vi fa piacere fatemelo sempre sapere Supportatemi e supportate questa proposta appunto Poi Rocco Beretti se hai ancora i nomi come consiglio insomma per quella città Scrivimeli perché li ho cercati e non li ho trovati Quindi insomma si se hai ancora i nomi per questa città Scrivimeli perché erano interessanti quando li lessi Quindi li vorrei comunque rileggere Vando alle ciance ragazzi Oggi che cosa faremo Non ci dedichiamo a Edoras Oggi ritorniamo nel nostro vecchio e amato villaggio Il nostro primissimo villaggio Probabilmente molti di voi nuovi non lo conoscono E quindi potrebbe essere anche un modo per far conoscere questo villaggio Che tra l'altro non metto piede qui da un bel po' Che cosa voglio fare? Voglio fare una chiesetta Perché uno di voi adesso non me lo sono segnato Vabbè metterò poi un'immagine qui in alto Mi aveva chiesto di fare una chiesetta Inizialmente lui mi aveva chiesto di farla ad Edoras E la faremo La faremo Ma qui non c'è Quindi avevo pensato di farla prima qui Ovviamente la faremo anche in Edoras Perché ci sta dai In tutti i villaggi fantasy ci stanno Quindi avevo pensato insomma di farla precisamente lì Vedete già avevo fatto un pochino di salita Si sale fin quassù Si arriva qui Si gira verso destra E qui ho già liberato un po' di spazio Si farà insomma la chiesa Con poi probabilmente non lo so Un cimitero nel lato Oppure la cripta sotterranea Non lo so ancora Ci penserò su Però avrei un'idea di design E adesso ve lo faccio vedere subito Blef ragazzi Blef Avevo intenzione di farvi vedere Questa chiesetta nel dettaglio Però purtroppo Come un idiota Mi sono reso conto Che avevo aperto il mondo Precisamente questo realm Perché era diciamo un mondo Che giocavo insomma Con ragazzi Con amici E avevamo fatto molte molte costruzioni insieme Tra l'altro ve l'avevo fatto pure vedere In qualche episodio fa Purtroppo Si è corrotto Perché come un idiota Io c'ero entrato con la 1.13 Che comunque pensavo Vabbè questo mondo non mi serve più Ci entro con la 1.13 Fesso che sono io E niente Non sono riuscito più ad entrarci Però però Sono riuscito a trovare uno screenshot Abbastanza vecchiotto Che ritrae questa chiesetta E adesso sicuro la starete vedendo Perché l'ho messa nell'editing Come immagine Mentre sto parlando E sì come vedete Piccolina Non è tanto grande Dovrebbe essere un sette blocchi Per Poi di lunghezza Non lo so Vedremo un pochino di cambiare qualcosina Perché tanto non la volevo fare Comunque uguale 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 Però insomma Avevo intenzione di farvelo vedere nel dettaglio Perché sarebbe stato più figo Però purtroppo questo mondo si è corrotto Quindi non ci posso fare niente È tutta di pietra È tutta di pietra E sinceramente non so Se lasciarla tutta di pietra E quindi farla di pietra anche qui Perché comunque questo luogo È un luogo dove si usa parecchio parecchio legno Forse staccherebbe troppo Da tutti gli altri edifici E non so se ci starebbe molto bene Quindi devo cercare anche di introdurre Un pochino di legno All'interno di questa struttura E magari cercare insomma Di renderla un pochino più legnosa E non troppo di pietra Ah tra l'altro non mi avevo fatto vedere Che ho un piccone Che ho nominato silk Così per leggerlo velocemente Con appunto seal touch Perché sì Mi sono messo un pochino Ad incantare libri E finalmente mi è uscito un seal touch Che comunque tra un episodio e l'altro Mi metto alla farm d'oro E insomma faccio parecchi parecchi livelli Quindi con tutti questi livelli Mi metto ad incantare parecchi parecchi libri Cercando insomma quello che mi interessa Quindi ho trovato fortunatamente seal touch E poi niente ho messo un breaking 3 E efficiency 4 Però non c'è mending Che mending insomma E' un pochino difficile da trovare Perché se non lo trovi da un villager Devi sperare che esca Dalla farm di pesca Quindi devo mettere un pochino la FK Comunque niente Prendo un po' di blocchi Vedo un pochino di iniziare A stendere un pochino questa struttura E vedere insomma come deve venire E ci vediamo tra pochissimo Allora signori Questo è un abbozzo di quello Che avevo intenzione di fare E come vedete sta venendo abbastanza bene La struttura è leggermente più larga Rispetto all'immagine che vi avevo fatto vedere nella scorsa clip Però sapete cosa non mi convince? Proprio il tetto Perché avevo intenzione di inserire roba in legno Per richiamare comunque questo villaggio Però non mi convince Sapete cosa vi dico? Quasi quasi Faccio il tetto simile a come stava nell'immagine Che vi avevo fatto vedere Quindi solamente questa parte di avanti Sarà fatta in cobblestone Ce l'ho giusto per farvi vedere Come potrebbe venire Tipo in questi punti Solamente davanti Ci sarà un contorno di cobblestone Fatto in questo modo Quindi anche lassù E quindi dovrebbe venire una cosa di questo tipo Che secondo me non ci sta per niente male E sì, forse questa chiesetta Alla fine potrebbe distinguersi parecchio Rispetto al resto del villaggio Però comunque cercherò di inserire motivi e cose in legno Per richiamare appunto il legno del villaggio Quello praticamente di spruce Che viene usato per i tetti Per tutto insomma Quindi verrà questo contorno Come vi avevo detto prima Riesco a mettere questo maledettissimo blocco Per cortesia Ok Poi vabbè Qua su si deve mettere lo slab Come vedete ho già messo la croce centrale Molto carina Ci sta Il colore non so se potrebbe essere giusto Però insomma nelle cattedrali gotiche C'è sempre qualche vetro colorato Quindi ci sta Per il resto questo tetto se vedete È molto molto diverso Rispetto al tetto dell'immagine Infatti ho voluto solo prendere spunto Solo per farvi capire un pochino Come avrei voluto fare la struttura Però sì mi piace Mi piace è un tetto abbastanza particolare Perché parte da molto in basso Qui Vedete E poi tende a salire parecchio parecchio in alto Nelle cattedrali gotiche Si innalzavano verso l'alto Perché dovevano essere strutture Che si avvicinavano di più al cielo Quindi aveva un senso il fatto che erano appunto Create con questi tetti lunghissimi E spigolosissimi Quindi ci sta anche questo Per il resto mi piace L'entrata pure fatta con questi motivi in legno Ah vi faccio vedere velocemente anche l'interno Ho messo già un pochino le panche Ho voluto mettere questo contorno con i sign Perché messi solamente qui è molto molto brutto Sarebbe bello se facessero i sign anche di spruce Quindi del colore di spruce nel prossimo aggiornamento Però a quanto pare forse non lo fanno E mi dispiace mi dispiace parecchio Perché hanno fatto tutto però Tranne i sign E adesso vi faccio vedere anche una piccola chicca In questo resource pack Le Android Si chiamano così giusto? Sì le Android Non hanno il motivetto viola qui sotto Il che è una cosa fighissima ragazzi Perché finalmente può essere usata come vera e propria candela Quindi quasi quasi sapete che cosa vi dico Qua al centro Dato che verrà tutto molto alto Ci farò un bel candelabbro O uno o due Vedrò un pochino se riesco ad inserirli E poi vedremo un pochino che cosa ne esce fuori Come vedete qua c'è la struttura Che si apre da questo lato Dove ci sarà probabilmente il campanile Non so se farlo qui o di lì Però già da come state notando Lo sto facendo in modo speculare Rispetto all'immagine della scorsa clip Quindi questa parte qui in teoria doveva venire sulla sinistra Però dato che sulla sinistra c'è la montagna Ho detto facciamola di qua In modo che se poi si vorrà fare un cimitero Faremo una bella porta di qui Che appunto ci dà accesso al cimitero Quindi potrebbe potrebbe funzionare anche come cimitero Però non lo farò in questo episodio Voglio anche sapere da voi Se ci sta il cimitero lì O sotto terra Oppure tutte e due Poi mi fate sapere Ragazzi ma sapete che vi dico I tetti in legno ci stanno Ho provato a continuare a costruire con legno E ci sta Ci sta Guardate soprattutto da qua fuori Che bella vista Troppo troppo bella Mi piace Mi piace Sto inserendo tanti tetti Tanti dettagli Soprattutto perché Non voglio insomma Che sia una cosa troppo semplice Come vedete anche qua sotto Ho voluto fare in legno Che ci sta Ci sta perché comunque richiama Il legno del tetto E non aveva senso qui avere Il tettuccio di pietra Quindi l'ho messo anche di qui Qui stavo iniziando a costruire il campanile Perché in teoria doveva venire di qui Come vi ho fatto vedere anche nell'immagine Vabbè non fate caso che ancora deve essere finito Tutto qui Questa stanza diciamo Era la stanza per poi accedere Alla torre barra campanile Però visto da qui Ci sta molto meglio Perché questo lato Era un lato un pochino povero di contenuti Ovviamente non è così basso Stavo iniziando già a mettere i primi mattoni Stavo salendo un po' Poi mi sono voluto fermare Perché poi devo farvi vedere un pochino Il progresso E parlarvi un po' di tutte le cose Che stavo facendo tra una clip e l'altra Vi volevo invitare ad iscrivervi Insomma al canale di Telegram Si chiama appunto News of YouTube E se non avete Telegram Ragazzi scaricatelo Perché non pensa praticamente nulla Io appunto ho voluto fare questo canale Pure per farvi vedere un pochino Che cosa faccio off camera Già ho visto e comunque ci sono delle persone Che hanno notato un pochino Quello che stavo facendo Quindi insomma se vi piace Vedere che cosa faccio tra un episodio e l'altro Metto degli spoiler lì Quindi iscrivetevi insomma al canale Stavo iniziando a mettere anche un pochino il terreno Come vedete anche nel mio inventario Questa parte qua dell'inventario Perché volevo vedere un pochino nell'insieme come veniva E adesso vi faccio vedere anche un pochino l'interno Ho provato già ad inserire le candele Chiamiamole così E ci stanno veramente veramente da dio Guardate qui che figata Non so se cambiare queste fence con delle fence un pochino più chiare Probabilmente lo farò Ecco vedete Vedete Sì 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 Già cambia tutto Rende un pochino questa parte più chiara Ci sta Ci sta Quindi farò probabilmente questa parte qui Non dello stesso colore del tetto Ma userò questo legno qui Che è più chiaro E si avvicina più al colore delle candele Tra virgolette Qua c'è una sorta di finestra Piccolina insomma Giusto per non lasciare questo spazio troppo piatto E ci sta Ci sta carino Ho voluto un pochino cambiare i colori Per renderlo non lo so Sempre più gotico Che tra l'altro gotico non è questo posto Però vabbè Facciamo finta che lo sia E abbiamo preso un pochino spunto Quindi insomma continuo a fare un pochino qui E vi aggiorno subito Signori ci siamo quasi Ci siamo quasi caspita Mi piace veramente un sacco come sta avvenendo Siamo partiti praticamente prendendo spunto da un'immagine E siamo usciti con questo E scusate se parto sempre con le clip lontano dalla struttura Ma mi piace proprio un sacco guardare questa struttura da lontano Quando si passa qui sotto È proprio l'apoteosi ragazzi Veramente una figata assurda Comunque 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 Ho fatto un bel po' di roba tra una clip e l'altra Prima di tutto qui ho inserito un'altra sorta di struttura Che si attacca a questa E sinceramente non so se mi convince al 100% Che comunque un tetto del genere Che si appoggia così Non so se ha molto senso Quasi quasi Per la prossima clip vedrò di Farlo da quest'altro lato il tetto Quindi di farlo salire di così E non da quest'altro lato Perché forse non ha tanto tanto senso Qui si era creato un angolo Che non mi piaceva E quindi ho messo questa sorta di tettoia Non so che cosa Infatti non so nemmeno che cosa inserire qua sotto Qui il portone se vedete non è più lo stesso L'ho voluto cambiare Volevo dare un'importanza all'entrata principale Ovviamente non si poteva fare una porta di due Perché non è pari la struttura E quindi ho inserito questo bordello di legno Per fare finta che sia una sorta di portone molto più grande E poi ho messo questo dark oak wood qui intorno Non chiedetemi perché Ma non lo so Forse ci stava A parte che il dark oak wood di questa resource pack è carino Sapete Ok sembrano quasi mattoncini però È un bel colore È un bel colore Mi piace molto di più rispetto al vecchio Comunque entriamo qui dentro Eh sì 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 Vedete un bel po' di roba qui dentro Un bel po' di roba Allora innanzitutto partiamo da terra Ho voluto fare una sorta di roba a scacchi Non mi piaceva usare solo la polish undesite E infatti ho usato anche la polish diorite Che non è per niente male Rispetto alla vecchia resource pack Questa qui è molto bella È più liscia È più sfocata Ci sta veramente un sacco Tra l'altro ragazzi Queste candele Se non fosse per questo cambio di colore qui sotto Non sarebbe stato così bello qui eh Comunque Qui abbiamo dei calderoni Che fanno da acqua santa Di solito alle entrate delle chiese Si mettono nei lati proprio dell'ingresso Qui su non sapevo se mettere un enchanting table Infatti l'ho anche craftato L'avevo messo Mi piaceva Però non lo so Ho voluto optare per il tavolo sacro Che c'è sempre no Dove c'è il calice Che sarebbe questo pot Però facciamo finta che sia un calice E poi non lo so Una sorta di vassoio piatto Che contiene l'ostia Poi una croce In questa sorta di abside Infatti se vedete esce un po' fuori la pietra Adesso vi faccio vedere Ho dovuto creare un'altra struttura Qui fuori apposta Qui sopra I due candelabri Li ho alzati un pochino Solamente di un blocco Se non sbaglio Sì li ho alzati di un blocco Perché qui sotto Arrivava praticamente qui Ed era troppo troppo basso E quindi l'ho dovuto alzare di uno In tutte e due Poi ho messo una trave Qui centrale Che sostiene un pochino la struttura Un pochino il tetto Poi vi faccio vedere anche velocemente questo punto Questa è quell'altra costruzione Che stava fuori Che non mi convince ancora appunto il tetto Vedrò un pochino Tra una clip e l'altra se aggiustarlo o no Qui ho messo delle bookshelf Perché praticamente qui dietro Ci sono le scale Quindi niente di interessante Per di qui Si sale come le solite torri Che faccio Con il pilastro al centro Che sostiene insomma queste scale Poi scale a pioli Qui ho messo una ringhiera Che non ti fa cadere giù Si sale qua su Sul campanile E ho messo il calderone Come campana Non sapevo cosa mettere Perché comunque se mettevo Un blocco d'oro Un blocco di ferro Non mi sarebbe piaciuto Era troppo cubico E questo qui Dato che ha Questi piedini Mi piaceva E poi comunque Ha il colore Effettivo di una campana No? Quindi ci sta Ci sta Ma signori Finalmente Da sopra questa montagnola Posso dirvi Che per oggi Abbiamo finito Finalmente Mamma mia Quanto ci è voluto Voi non potete Proprio immaginare Intorno Non ho fatto Tutto il terriccio Perché ci vuole Troppo tempo Veramente Veramente Troppo tempo Mi ci dedicherò Poi con calma Però ragazzi Finalmente Tutta la struttura Credo sia finita Allora Prima di tutto Cominciamo da questo punto qui Questa parte Se vedete È cambiata Perché appunto Nella clip Scorsa Avevo detto Che non mi convinceva Come si alzava Perché era simile A questa E non lo so Non mi convinceva Tanto E l'ho fatta in questo modo Mi piace Proprio questa parte qua Che è piccolina Che si alza Giusto giusto Per richiamare Un pochino Anche la parte Che c'è di qui Che tra l'altro Se vedete È cambiata Ho messo una sorta Di croce Fatta di vetro Che ci sta Ci sta Molto molto bene Molto molto bene Volevo un pochino Volevo un pochino coprire Quest'angolo E l'ho coperto Con una chest Con crafting table Un po' di fieno Che ci sta sempre Sai In questi posti Ma entriamo dentro Ragazzi Perché ho apportato Un po' di modifiche All'interno Di questa struttura Prima di tutto Qui c'è Una statua Commemorativa Non lo so Ci ho messo anche Le braccia Non è male Forse questa roba Intorno Non mi convince Al 100% Magari poi Ditemi voi Aspetta Andiamo a dormire Perché poi non voglio Trovare qualche infame Qui fuori La torre Non è cambiata È sempre la stessa Anche l'interno Che vi ho fatto vedere Nella scorsa clip È quello Riallacciandoci al discorso Di prima Questo armor stand Se volete insomma Sapere come l'ho fatto Ci farò un video Magari Che insomma Vi spiego un pochino Come si fa Un armor stand Del genere Entriamo intanto Di qui Che insomma Ho riempito Giusto di poco Due sedie Diciamo che questa È la sagrestia Dovrei mettere altre cose All'interno Ma veramente Non avevo idee Qui c'è una sorta Di armadio Contenente poi Le tuniche Dei sacerdoti Non sapevo Cosa altro da mettere Perché comunque Non c'è tantissimo Spazio Ma per esempio Di qui Mi piace molto Come è venuta La stanza Anche se è più piccola Mi piace di più Perché qui abbiamo degli scaffali Delle bookshelf Che ci stanno sempre Un tavolino Con sempre Un calice Un piatto Qualcosa Giusto per riempire Tra un episodio E l'altro Vedrò un pochino Di ultimare Qui intorno Però ripeto Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate E fatemi sapere Soprattutto Se ci devo fare Il cimitero Perché secondo me È un'idea molto carina Ci potrebbe stare E niente ragazzi Io vi saluto Da dentro Questa chiesetta Dicendovi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi su telegram Come già vi ho anticipato Prima Non chiedo like Non chiedo Niente di che Chiedo solamente Di attivare le notifiche Quindi attivate La campanellina Vi può essere utile Quando escono I miei episodi Datemi consigli Ditemi Cosa altro Devo aggiungere In questa fantastica Chiesetta Per il resto ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi